Si è svolta nella villa di Piazza Marconi a Siderno la giornata internazionale della donna, protagoniste sempre e non solo per un giorno, per ricordare le lotte e le conquiste di tutte le donne nel mondo per la parità di genere in tutti gli ambiti, della società dal lavoro alla famiglia, contro le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggi oggetto in quasi tutte le parti del mondo. L'amministrazione comunale di Siderno ha voluto organizzare la celebrazione illuminando di giallo mimosa alcuni monumenti della città, invitando i commercianti ad allestire a tema le proprie vitrine e inviando alle scuole del territorio del materiale informativo proprio per sensibilizzare i giovani e fornire un approfondimento sul significato storico della donna. Non poteva mancare anche la piantumazione di un albero di mimosa e l'inaugurazione di una targa dedicata alle donne di Siderno. Oggi festeggiamo in maniera un po' diversa questa giornata internazionale della donna e questo perché purtroppo ancora per via del Covid abbiamo preferito non fare manifestazione al chiuso e abbiamo deciso di piantare quest'albero che è simbolo proprio della giornata internazionale della donna. Dedichiamo anche, facciamo una targa e piantiamo una targa dedicata a tutte le donne sidernesi che si sono sempre contraddistinte per il loro lavoro e perché hanno portato lustro a Siderno. Ma oggi è una giornata veramente particolare perché la vogliamo anche dedicare a tutte le donne, mamme, nonne ucraine che purtroppo stanno combattendo e subendo queste terribili ingiustizie e attacchi da parte di Putin. Noi come amministrazione abbiamo anche voluto dare il segno perché siamo convinti che il tutto parta dalla cultura, dal rispetto della donna perché purtroppo anche se si è fatto, si sono fatti i grossi passi avanti nella parità di genere, purtroppo ancora non è così. Ieri infatti la Presidente della RAI diceva che addirittura sembrerebbero che manchino 136 anni affinché ci sia la perfetta parità sociale e pari dignità rispetto all'uomo. Io mi auguro veramente che si sbagli e che non sia così. Noi come amministrazione abbiamo deciso di inviare in tutte le scuole un CD-ROM dove viene riportata e ricostruita la storia e come nasce l'8 marzo. Buona festa a tutti e soprattutto a tutte le donne.